Ma come fanno l'amore nei film? Ci sono scene all'interno dei film e delle serie tv che vediamo in cui due attori sembrano farsi prendere dalla più travolgente delle passioni, ma quanto c'è di vero in quello che vediamo al cinema e che cosa si inventano registi, sceneggiatori e produttori per far sembrare e dare l'illusione agli spettatori che due attori stiano per davvero facendo l'amore sul set? Dovete sapere che nella maggior parte dei casi, quando vediamo una scena in cui c'è una passione travolgente, due attori non consumano per davvero un rapporto, ma indossano degli slip color carne per mascherare il fatto che comunque sono vestiti e per dare l'idea che invece non abbiano nulla addosso. Questi slip vengono fissati al corpo degli attori tramite degli appositi cerotti, in questo modo i due attori possono darci dentro come si suol dire in maniera realistica senza però fare per davvero l'amore e nella maggior parte dei casi con gli effetti che vengono aggiunti in post produzione, ma anche grazie al trucco di scena che viene utilizzato e poi il montaggio, insomma si rende invisibile ciò che invece sembra visibile quando guardiamo il film o la serie tv in questione. Ci sono però delle scene in cui ci si spinge un po' oltre e sono abbastanza esplicite, ne vediamo sempre di più nei film ultimamente. Ebbene in questo caso gli attori possono chiedere di usare delle protesi anche perché questo impedisce di violare la propria privacy e comunque di recitare e di portare a termine quella scena in quel determinato film. Nelle scene più esplicite in cui i due attori si devono muovere fisicamente di più, viene spruzzata sul corpo delle persone dell'acqua di rose per simulare il sudore e anche sulla fascia vengono applicati uno speciale trucco per rendere davvero l'idea che i due attori stiano facendo uno sforzo fisico tra virgolette mentre fanno l'amore. Pensate che per alcune scene di nudo si ricorre addirittura delle parrucche per i peli pubblici, sì avete capito bene. Questo aggeggio viene chiamato Merkin in gergo e moltissime attrici ne hanno fatto uso, da Kate Winslet in The Reader fino a Anne Hathaway in Amore e altri rimedi, passando per Dakota Johnson in 50 sfumatore di grigio. Questo trucco viene realizzato per ricreare l'inguine dell'attrice e non mostrare quello vero davanti alla cinepresa. C'è poi l'angolazione appunto della cinepresa che può fare miracoli, ormai lo sapete, grazie alle inquadrature possiamo far sembrare cose che in realtà non avvengono. È l'esempio di Romance e Cigarettes dove Kate Winslet ha dovuto saltare su una piccola palla da pilates per simulare una cavalcata selvaggia. Il tutto è stato poi aggiustato in fase di montaggio, dando così l'illusione che la Winslet stesse per davvero facendo l'amore con il suo collega sul set. Altra cosa interessante che riguarda come si fa l'amore nel cinema e come viene mostrato poi ai telespettatori è il fatto che molti attori usino delle controfigure e vengano chiamati dei veri e propri professionisti che lavorano nel mondo dell'hard e che possano essere utilizzati solamente per le scene in cui due attori sono chiamati ad avere un rapporto. È il caso per esempio di Nymphomaniac, il capolavoro di Lars von Trier. Nella pellicola le scene hot si susseguono fino all'ultimo minuto e sono tutte abbastanza reali, ma a interpretarle dovete sapere che non sono Charlotte Gainsbourg, Shea Leboeuf e Uma Thurman, ma degli attori che lavorano nel mondo dell'hard. Come tutte le cose ci sono anche delle eccezioni, l'eccezione che conferma la regola. Ci sono attori che per davvero in un film o durante le riprese hanno effettivamente fatto l'amore con il proprio partner oppure hanno fatto autoerotismo. È il caso di Robert Pattinson, l'ha raccontato anche lui durante le riprese di The Lighthouse. L'attore ha raccontato che c'era una scena, poi se avete visto il film avete capito a cosa mi riferisco. Ebbene, quella scena sarebbe reale. È sempre bello fare qualcosa di non scontato per la tua scena iniziale e per quella prima ripresa sono andato veramente alla grande, ha detto Pattinson. Era davvero distante da tutto quello che avevamo fatto nelle prove. Mi sono accorto che il regista, Robert Eggers, era un po' sotto shock, ma ho pensato, ok, nessuno mi ha detto di smettere, quindi andrò dritto per questa direzione. E appena l'ho fatto le cose hanno girato per il verso giusto, ha rivelato Pattinson. Insomma, non c'è dubbio che questo tipo di scene si veda sempre più spesso all'interno dei film e delle serie tv che vediamo tutti i giorni. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa curiosità, se la sapevate e se ne conoscete altre, alcune indiscrezioni che riguardano il retroscena, su come due persone si comportano sul set e se vi è mai capitato di accorgervi che qualche scena fosse più reale di quanto non raccontasse il film. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciaccazione, ricordatevi di seguirci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo aneddoti, storie e curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!